Questa drosofila ha qualcosa che non va. Ma cosa? È stata parassitata da un fungo dal nome che è tutto un programma. Distruttore di mosche. Parlo di Entomophthora musche, un fungo che ricorda piuttosto da vicino una nostra vecchia conoscenza, Ophiocordiceps milateralis. Quando si tratta di funghi parassiti, bene o male, questi manipolano il comportamento dell'ospite, oppure gli fanno emettere sostanze che attirano altri esemplari in modo da poterli contagiare. Bene, a quanto pare il nostro parassista del giorno doveva essere piuttosto indeciso su quale delle due strategie fosse la sua preferita. Così indeciso da usarle entrambe. Infatti, quando riesce ad infettare una mosca, ne manipola il comportamento per far sì che raggiunga un posto alto, in modo che rilasci le spore su una superficie più ampia possibile. In pratica rende gli insetti delle docce che, al posto che acqua, rilascia lo spore. Ma non è finita qui. Quando una femmina infetta muore, il fungo rilascia attraverso il corpo dell'insetto delle sostanze che attirano i maschi, che provano quindi ad accoppiarsi. E secondo voi, quale mai potrà essere il risultato? Che i maschi vanno ovviamente in bianco e per di più si portano pure a casa un'infezione.